La stanno rapinando, giusto? Non si volti, non ci metterò tanto. Aspetti, lei chi è? Uno che preferisce non farsi coinvolgere. Ti sei riferito agli investigatori speciali come la tua squadra, i tuoi soldati, persino i tuoi amici. Non si scherza mai con gli investigatori speciali! E ora sono nei guai. Li hanno torturati, li hanno buttati giù da un elicottero e ci stanno dando la caccia. Ottimo. Diavolo, Richard, da piccoli ci scrivevamo il nome. Perché l'hai colpito così forte? Io non colpisco mai, piano. Che direttive abbiamo? Ci prepariamo, indaghiamo, mettiamo la brutta gente in prigione. Cosa credi di fare? Proprio come ai vecchi tempi, eh? Già, tu indietro, mentre io faccio tutto il lavoro. È il capo, i capi danno ordini. Ma ci hanno sparato in pieno giorno. Sono disperati. Quell'uomo ha un buon istinto. Quell'uomo ha tutto buono. Le foto di sorveglianza non ti rendono giustizia. Brutta serata, vero? Siamo stati peggio. Mi serve una giacca nuova. Cosa ha quella che ha comprato? È sporca di sangue. Mettere... Pasare... Non ti receivers. Non ti percep letters. Non ti